benvenuti sul mio canale tutto dal web ieri sera la regia del grande fratello ha commesso un grave errore dopo aver chiamato infatti tre concorrenti nel confessionale in modo particolare monia letizia e perla non si sono accorti di aver lasciato l'audio acceso e per tale ragione gli inquilini e anche gli spettatori da casa hanno sentito tutto i telespettatori più attenti come ben sanno sono abituati a vedere la regia che toglie l'audio quando si parla di argomenti scomodi o di tabù nella concorrente edizione è successo fin dai primi giorni a causa di una battuta ma spesso è capitato anche di recente con anita beatrice insomma parecchie volte ragazzi il grande fratello parlando anche normalmente in giardino ha tagliato l'audio si tratta di un gesto che viene effettuato da sempre di conseguenza sorprende quando avviene il contrario ossia nel confessionale proprio ieri sera durante la diretta su mediaset extra a un certo punto si sente in diffusione delle voci di tre concorrenti del grande fratello molto presto ragazzi si capisce che sono proprio tre concorrenti che sono entrati nel confessionale dove infatti c'è proprio l'autore che li accoglie così buonasera quanta bellezza tutti insieme e spiazzante mogna replica sempre dentro il confessionale dice loro due io sono un sacco di patate veramente poi per la dice ma perché in poche parole ragazzi l'autore aveva avuto delle parole dolci nei loro confronti e si è sentito tutto chissà se ci saranno altri tipi di gaffe che capiteranno in futuro tipo come queste lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima